Abbiamo partecipato a Giavra Festival per mostrare chi siamo, da dove arriviamo, per mostrare per altri a nostra cultura anche. Abbiamo visto queste ragazze bellissime che stavano zanzando, sono ragazze che sono indiane, però sono nate qui. Sì, ragazze che sono indiane, che sono nate qui, per cui anche per loro un motivo per imparare, le nostre radici hanno studiato questo balo guardando attraverso Youtube, vestiti che abbiamo portato dall'India, per cui è un impegno dietro, con molto piacere. E alla fine della settimana del Giavra Festival, che cosa vi siete portati a casa? Ma dopo il Festival siamo felicissimi proprio per mostrare tutte queste gente davanti a questa gente, un orgoglio, proprio un orgoglio dove siamo, da dove arrivati, mostrare per altri nostra importanza.